Per realizzare l'irrigazione del tuo giardino cosa serve? Ciao sono Federico di Tuttoirrigazione.it e vediamo assieme le informazioni base per cominciare a realizzare il tuo impianto di irrigazione. Identifica la fonte idrica se pompa o acquedotto, poi misura le sue prestazioni, quindi la portata ad una certa pressione. Se non sai come farlo vedi il video in descrizione. Fai rilievo con le misure reali o recupera una planimetria verificandola ed accertandoti se ci sono reali cambiamenti. Verifica se puoi passare i cavi elettrici da casa al giardino per valutare l'utilizzo di centralinea corrente in 220-24 volt, oppure optare per un sistema batteria professionale. Valuta la gestione smart del tuo impianto da smartphone o browser grazie alla presenza di una connessione wifi. Indica il nord nel disegno per aiutarci a comprenderlo meglio. Con queste informazioni contattaci. Usa il nostro servizio di progettazione, trovi il link qui nella descrizione, per avere un progetto con una quotazione. Affiancati ad un professionista che sappia usare più marche per ottimizzare il risultato nel tuo giardino. Iscriviti al nostro canale, attiva la campanella per non perdere i nostri video sui prodotti che trattiamo e metti un bel mi piace se questo video ti è stato utile. Ciao, a presto!